Giampiero, cosa stava facendo intorno alle 5 di pomeriggio, quel 18 gennaio del 2017? Mia moglie mi ha detto che gli mancava un aspirino, non mi ricordo se faceva male la testa, queste cose qua, e mi aveva detto guarda che l'ho lasciato nella borsa, allora praticamente tutti quanti stavamo rientrando, io ho detto vabbè, ora trovo da prendere adesso. Sono arrivato lì alla macchina mia, ho girato per prendere lo sportellone, come ho aperto la valigia per prendere il medicinale, ho sentito dietro di me questi rumori strani di alberi che si spezzavano, di rami, e poi c'è stato come una specie di, come se si staccava qualcosa, ho creduto che era un rumore mai sentito, qualcosa di pericoloso, quindi io ho lasciato la macchina così come stava, mi sono diretto verso l'albergo, l'istinto mi ha detto di andare verso l'albero, non so che mi diceva la testa di aggrapparmi a qualcosa, e poi è successo frazione di secondi che mi sono andato a rigirare e si era formato, ho visto che era passata una valanga o qualcosa, che si era formato un cumulo di neve e c'erano le macchine infilzate come le spade, diciamo. E poi cosa ha fatto? Ho preso un po' di coraggio e ho scavalcato questi cumuli di neve per cercare di andare a vedere l'albergo e dopo quando sono andato là ho visto solo la lucetta della spa sotto, ma sopra non ho visto niente, c'era una porticina si vedeva dove siamo entrati. L'hotel Rigopiano non c'era più? Non c'era più, non c'era più.